buon ciao a tutti raga bentornati in questo nuovo video raga buon ciao e buon ciao raga ho creato il mio nuovo team hb come potete vedere dal mio nome hb nico king il mio team hb sarà il team più forte del mondo potrete fare tutti potranno fare i provini ovviamente sarà un team hacker non proprio una un team super hacker però comunque h di buona qualità comunque perché chi fa su guys comunque puoi volare ma solo in finale ok io ovviamente adoro questo video veramente adoro del robottino giapponese è veramente figa oggi faremo un po di vi parlerò ovviamente giochiamo come potete vedere sto giocando un po male perché sono è la prima partita del giorno ok vi 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 spiego come si svolgono i provini allora voi mi scrivete dei commenti poi nelle prossime live su twitch mi raccomando ogni venerdì nico king live faccio faremo dei provini di symbol guys facciamo diversi tipi di giochi giochiamo tutti i giochi raga tutto quello che potete giochiamo pure a ai giochi di peppa pig se volete raga mi raccomando scaricatela mi raccomando scaricatela ok nico king ok qui voglio fare un pochetto di trick che appunto so fare ok ok buono questo trick comunque siamo arrivati a 100 corone continuiamo facciamo delle altre partite molto tranquilli ecco c'è la pubblicità di zalando vediamo cosa abbiamo sbloccato non abbiamo sbloccato niente 10 oggettoni stambol commenti e qua abbiamo vi